L'ho visto Mi raccomando se c'è da insultare qualcuno non fallo troppo fuori perché ti sanno Se vuoi insultare tuo figlio va bene Ha fatto come negato un animale Poi mi dicevo ma ti dico io me ne intendo Ma porco cane Ma come ti fai? Che è successo? Ha segato un ramo e ce l'ha appoggiato Peccato che non si ero lì per riprendersi Non lo mettevo su un uomo Ma neanche io c'è ste cose Cioè è cominciato dal basso verso l'alto si vede No è tagliato un ramo No però ce l'ha appoggiato Quando è mancato Si Se viene sedente E' abbastanza E facciamo questi giochetti lì Tant'è quella che c'è la vita difficile Sennò non ce l'ho appoggiato Dai Castel Madonna Perché non l'ha attaccato? Abbiamo il telefono Non neanche io Non neanche io A questo non sto capendo il modulo essenzialmente non sto capendo il modulo essenzialmente un modulo ibrido modulo castellano altissimo primo cei che gioca non so se c'entra l'initra esce matti forza bravo cori castellano non sto capendo il modulo grazie L'imperio è in eccellenza. Dandoro in promozione. Veloce! Veloce! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.